WeTravacu è un'app realizzata da Carza che è capofila con altri partner di un progetto interessante e innovativo. Si parte dal fatto che l'Aquila è una delle cinque città italiane che ospitano la sperimentazione 5G. In centro storico un test sull'app alla presenza di 50 studenti del Cotugno, di cui 11 stranieri, provenienti dalla Lettonia al termine dell'Erasmus. L'idea arriva dopo la richiesta dello European Space Agency di creare servizi per la salvaguardia, la conservazione e la promozione e il godimento del patrimonio culturale regionale, promuovendo politiche innovative per il sostegno turistico. L'app infatti riguarda il patrimonio culturale della città. La rete 5G in fase di implementazione sarà un abilitatore per i modelli di turismo esperenziale e sostenibile. Il turista potrà immergersi così, nella realtà, scoprendo informazioni culturali e artistiche, eventi, informazioni commerciali e promozionali con un servizio end-to-end per la città, che offre ai utenti la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sui luoghi, monumenti, chiese, opere d'arte attraverso pure una geolocalizzazione ad alta precisione. Grazie alla realtà aumentata, la visione sarà arricchita da informazioni, immagini e contenuti audio. Sì, è un progetto che abbiamo realizzato insieme ad una serie di partner come Win3, ZTE, CNR ed altri e per conto dell'ente spaziale europeo, un progetto sperimentale di valorizzazione dei beni culturali attraverso un prodotto innovativo, in questo caso un'app, che ha delle caratteristiche particolari il riconoscimento dei monumenti, la realtà aumentata. È una dioguida perché noi riteniamo che sempre di più siamo abituati ad ascoltare più che a leggere, ma d'altro canto andando in giro è molto più facile ascoltare visto che bisogna guardare e guardare la realtà. I partner sono diversi, Carza è il capofila, poi c'è ZTE, Win3 e Geos, Sensing, che è uno spin-off dell'Università dell'Aquila, Eagle e la CNR Isti di Pisa, oltre all'Università di Trento. Così come era avvenuto già in precedenza durante il periodo pandemico in cui avevamo realizzato con i nostri esperti un'app per la gestione della pandemia, in questo caso con finalità ben diversa e sicuramente più bella, per il tramite il nostro spin-off abbiamo realizzato questa app che sarà disponibile per gli studenti, ma anche per la popolazione generale per render fruibile, diciamo, voi beni culturali, turistici, in maniera facilitata, in maniera facilmente apprezzabile, diciamo, è un impegno che speriamo di poter estendere anche in futuro ad altri aspetti della comunicazione perché noi siamo fortemente impegnati nella divulgazione turistica ma anche in quella culturale, diciamo, con il compito a principio dell'Università, quindi siamo pienamente soddisfatti di questo risultato.